Al quinto posto, abbiamo la Hotpoint e 4D. A un costo accessibile, è possibile acquistare un ottimo frigorifero Hotpoint Ariston con un enorme frigorifero congelatore e grandi offerte di spazio nell'area frigo. All'interno, la stanza è ben dispersa e anche la capacità reale è significativa. Puoi mantenere un po' di ogni piccola cosa senza limiti rigorosi relativi alle dimensioni dei contenitori. I rack sono costruiti in vetro e per questo motivo trasparenti, un'opzione che ti consente di avere subito la foto di ciò che c'è dentro senza perdere tempo a guardare. È arredato senza alcuna tecnologia Frost per limitare lo sviluppo del ghiaccio. Grazie al sistema interno di ricircolo dell'aria, viene impedito l'effetto indesiderato che fa entrare l'umidità in frigo e anche il frigorifero congelatore. Al numero 4, abbiamo Sharp SLunga F790 STSL. Tra i modelli commercializzati online che hanno un grande successo, localizziamo anche questo frigorifero Sharp American. Il vantaggio architettonico sta nel design che ha quattro porte invece di due come in altri grandi frigoriferi. In questo modo si acquisisce il vantaggio di isolare bene i materiali del frigorifero da quello del congelatore, ma soprattutto di limitare la dispersione del freddo aprendo solo la sezione del frigorifero che è davvero necessaria. Inoltre, è prontamente disponibile ancora più spazio per posizionare vassoi, pasti al forno o soprattutto grandi contenitori all'interno. Lo stesso non vale per il congelatore, che è piuttosto separato direttamente in due sezioni che limitano le dimensioni dell'area. Al terzo posto, abbiamo la LG GSB760PZXZ. Il confronto tra i modelli continua ed è anche la volta di questo attraente frigorifero americano LG. Le performance sono davvero affascinanti oltre che realizzate per dare al singolo la massima soddisfazione del cliente. È molto grande e diviso in due scomparti, una porta apre la porta del frigorifero e l'altra apre il congelatore. La capacità complessiva è sostanziale, 406 litri e 220 in particolare. La capacità di congelamento è davvero intrigante, con circa 12 chili di cibo fresco da acciacchire entro uno giorno. Al numero 2, abbiamo il Samsung RS68N8242SL. Quando si tratta di stabilire come selezionare un eccellente frigorifero americano, le offerte possono essere un buon passo, ma anche l'efficienza e la tecnologia dovrebbero svolgere un ruolo. Ad esempio, questo modello suggerito da Samsung rientra nel corso di consumo a più, praticamente ineguagliabile. Si avvale di un sistema interno di gestione della temperatura estremamente efficiente, dove le due porte dividono l'area frigorifero dall'area frigorifera. L'obiettivo è quello di guidare l'evaporazione che avviene normalmente all'interno, al fine di limitare la dispersione del freddo. Inoltre, consente la migliore amministrazione dello spazio, occupandosi di massimizzare le dimensioni effettive della struttura interna. Il risultato è molto più area disponibile, anche per articoli grandi o irregolari, senza esaltare la dimensione del frigorifero nella zona cottura. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Samsung RS68N8941SL. Quando ti chiedi quale frigorifero americano ottenere, probabilmente vuoi mirare un po' più grande del frigorifero compatto senza tempo. Samsung ha effettivamente compreso questo requisito e utilizza anche il mercato un affascinante progetto di automazione domestica legato alla gestione di piatti e intrattenimento. Sì, perché, se vuoi, con questo frigorifero puoi anche ascoltare musica o vedere un programma televisivo. Il fattore dipende dalla capacità di connettere il gadget alla rete e gestirlo anche utilizzando l'applicazione. Ti consente di collegarti al telefono per ottenere informazioni utili sui suoi contenuti web in tempo reale, la funzione più desiderata quando vai a fare shopping senza aver preparato l'elenco. Grazie a tutti.